Da qualche giorno la trasmissione 8 e mezzo è stata sospesa e di Lili Gruber non si hanno più notizie. Ovviamente le speculazioni sull'assenza della bella giornalista sono moltissime. Si va dall'ipotesi di una lite con Giovanni Floris, nuovo acquisto della scuderia di La Sette, a trattative segretissime con Rai 3 per la conduzione di una nuova trasmissione. Sia quel che sia, Lili non si fa vedere ufficialmente per un abbassamento di voce. Da parte della diretta interessata a nessun commento, solo aggiornamenti dalla Sette sul suo presunto stato di salute e qualche sporadica notizia da Enrico Mentana che col suo TG va in onda subito prima della Gruber. Qualche giorno prima di scomparire dalla TV, Lili ha concesso un'intervista settimanale nuovo in cui racconta del suo toccante incontro con Papa Francesco. L'ho invitato a 8 e mezzo, ha detto la Gruber. L'ho incontrato poco tempo fa e gli ho anche regalato il mio libro e lasciato il mio numero di cellulare. Gli ho chiesto in maniera formale di intervenire in trasmissione. Mi ha detto di essere molto occupato, ma io non dispero, non si sa mai. E poi conclude dicendo, con il Santo Padre ho parlato del ruolo dei giornalisti. Lui sostiene che abbiamo tre doveri, ovvero bellezza, bontà e verità. Sagge parole, quelle del Pontefice, ma noi siamo curiosi di sapere cosa è successo a Lili Gruber e quando la rivedremo di nuovo in TV.